I piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche diventano obbligatori. Torino ha dato l'ultimo addio a Bruno Segre, all'Asia, un uomo coraggioso e determinato. Oltre 2.000 persone hanno partecipato al concerto di Luca Barbarossa nel giorno della memoria. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Via libera maggioranza da parte dell'Assemblea, la legge che rende obbligatori i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il provvedimento non prevede oneri finanziari per la Regione, ma in caso di lavori pubblici finanziati dalla Regione stessa, il 2% del contributo erogato dovrà essere utilizzato per la redazione del PEBA o, se il piano è già presente, per eliminare le barriere architettoniche. Anche in Piemonte i comuni e tutti gli enti pubblici dovranno avere un PEBA, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come già previsto da una legge nazionale del 1986 e anche dalla legge 104 del 1992, ma spesso non realizzato. La nuova legge regionale, approvata dall'Aula, con 24 voti favorevoli della maggioranza e 16 non partecipanti al voto dell'opposizione, riguarda tutti gli edifici pubblici, gli spazi esterni non costruiti, i trasporti pubblici e anche i luoghi di culto. Presentatore in Aula del provvedimento è il relatore di maggioranza Walter Marin Lega. Nel momento in cui la regione finanzia opere pubbliche a qualsiasi comune del Piemonte, la realizzazione dell'opera pubblica dovrà riservare il 2% dell'importo dei lavori, specificatamente in prima battuta al piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e, qualora eventualmente se ne siano dotati, realizzare le opere che eliminano le barriere architettoniche. Relatore di opposizione Silvio Magliano, moderati, che ha presentato 20 emendamenti al testo in parte accettati dal primo firmatario, ma non ha partecipato al voto finale. Come relatore minoranza ho segnalato ciò che non ci convinceva, ciò che non vi fossero risorse. Certo è che però era necessario avere questa legge per dare possibilità a incentivare i comuni a scrivere i PEBA e a realizzare i PEBA. La nuova legge istituisce inoltre anche negli altri enti pubblici. La figura del disability manager che si occuperà in particolare dell'accessibilità ai luoghi di lavoro operando in raccordo con il suo omologo regionale. Un uomo coraggioso e determinato, un simbolo per le nuove generazioni. Il presidente Stefano Allasi ha partecipato ai funerali di Bruno Segre al cimitero monumentale di Torino. Il presidente del Consiglio Stefano Allasia ha partecipato al cimitero monumentale di Torino insieme a numerosi consiglieri regionali ai funerali di Bruno Segre, partigiano e testimone della resistenza morto il 27 gennaio scorso, giorno della memoria. Un uomo coraggioso e determinato ha ricordato Allasia che ha dedicato la sua vita alla lotta per la libertà e la giustizia, scelte che gli sono costate anche a livello personale. Da giovane ha combattuto contro il fascismo e le forze dell'occupazione nazista, dimostrando grande coraggio e altruismo. Dopo la guerra ha continuato instancabilmente a impegnarsi per la difesa dei diritti umani e della democrazia, diventando un simbolo di speranza per le nuove generazioni, ha concluso Allasia. Il destino ha voluto che il suo addio sia venuto a coincidere con il giorno della memoria. Queste le parole di Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione. Con Bruno Segre si spegne uno straordinario testimone dell'antifascismo e una tra le più libere e coraggiose voci dell'intellettualità torinese. Fondi per le cure e la riabilitazione dei malati di Parkinson. Questo è il tema dell'interrogazione che il consigliere Sarno, Partito Democratico, ha rivolto all'assessore alla sanità Icardi nell'ambito dei Question Time. Le risorse destinate alle strutture che in Piemonte si occupano della cura e della riabilitazione dei malati di Parkinson non solo sono state confermate, ma sono lievemente aumentate. E' quanto dichiarato dall'assessore alla sanità Luigi Icardi in risposta al Question Time presentato dal consigliere PD Diego Sarno, che ha ricordato che a Torino e provincia sono circa 7.000 le persone affette dalla malattia, 22.000 in tutto il Piemonte. Gli stanziamenti per la struttura San Camillo di Torino nel 2018 ammontavano a 10.028.000 euro. Nel 2023 sono passati a 10.065.000 euro, ha specificato l'assessore Icardi. Lieve incremento di stanziamenti anche per la struttura Fatebene Fratelli di San Maurizio Canavese. Considerando l'aumento dei costi delle strutture, le risorse sono totalmente insufficienti, ha commentato il consigliere Sarno. Molto spesso chi necessita di cicli di trattamenti è costretto a rivolgersi al privato o a recarsi in altre regioni. Luca Barbarossa in concerto all'auditorium del Lingotto, mostri, incontri, performance teatrali, numerosi gli eventi organizzati in occasione del giorno della memoria. Oltre 2000 persone hanno affollato l'auditorium Giovanni Agnelli di Torino per assistere al concerto di Luca Barbarossa che si è esibito in occasione del giorno della memoria insieme alla Social Band. L'evento è stato organizzato dal Polo del Novecento in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e la città di Torino. Siamo convinti che sia necessario parlare tutti i linguaggi che possono raggiungere tutte le persone più disparate, ciascuna secondo la propria sensibilità. Il giorno della memoria è una ricorrenza importante, noi non possiamo rassegnarci al fatto che diventi una ricorrenza per pochi, ma deve diventare di tutti e deve trasformarsi in un grande impegno collettivo a non dimenticare. Bisognerebbe creare dei parchi dove si ricostruisce la storia come era e dove i ragazzi si rendano conto di cosa non si poteva fare, di cosa non si poteva dire e di come un compagno di banco poteva essere deportato da Auschwitz. La serata è stata inserita nell'ambito di un fitto programma di oltre 30 appuntamenti organizzati dal Polo del Novecento in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e la città di Torino in occasione del Giorno della Memoria. Sabato 27 gennaio è andata in scena la performance Memoria, ora della compagnia Pem, impresa sociale, con la regia di Gabriele Vacis. Sempre nell'ambito degli eventi che il Polo del Novecento dedica al Giorno della Memoria è visitabile fino al 24 febbraio la mostra Touch, un progetto di Piero Cavagna e Giulio Malfar che si interroga sulla modalità del ricordo. Un programma ricco e importante che è già iniziato nei giorni passati e proseguirà fino ai primi giorni di febbraio. Tra gli altri appuntamenti organizzati in occasione del Giorno della Memoria con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale al Museo Nazionale della Montagna di Torino è visitabile fino al 13 ottobre la mostra Le ossa della terra, Primo Levi e la montagna. Tutti sanno che Primo Levi amava la montagna ma è un tema ancora poco approfondito. Si riesce a accostarsi a Primo Levi da un'angolatura un po' inusuale superando un po' quella sua dimensione unica di testimone della Shoah. Anche quest'anno Torino si colorerà di rosa con Just the Woman I Am. Domenica 3 marzo ritorna Just the Woman I Am la corsa camminata di 5 chilometri che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro organizzata dal Centro Universitario Sportivo Torinese in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte. Un sostegno concreto, un sostegno economico per una manifestazione che si sta sempre allargando a macchia d'olio per dare supporto a chi fa la ricerca tutti i giorni per cercare di sconfiggere il cancro. Servono sempre più soldi per dare sostegno e aumentare la platea di persone che possano curarsi veramente dal cancro. Quest'anno la partenza sarà da Piazza Vittorio Veneto e l'arrivo in Piazza San Carlo dove verrà allestito il villaggio della prevenzione e del benessere nelle giornate dell'1, 2 e 3 marzo con stand dedicati alle visite gratuite, al counseling e alla prevenzione. Se noi preveniamo, se noi pensiamo un po' di più a noi stessi evidentemente troveremo anche delle energie per poter dedicare al lavoro, alla famiglia, alle amicizie e questo mi piace molto, Just Women AM è questo. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!